L'eroe d'azione Come va con l'adozione? Non troppo bene La star comica Sai fare quello che faccio io? Fotografate questo! Il premio Oscar I miei attrezzi sono le emozioni Lazarus ha affrontato una procedura di alterazione della pigmentazione per impersonare il sergente afroamericano Sono le maggiori star di Hollywood Non morirmi, quadrifoglio! Triste, molto, molto triste Scusa, dai lo stop Che sta succedendo qui? Ma il film che stanno girando Facciamo il più grande film di guerra di sempre Sta per diventare realtà Sembra di fare sul serio Esatto, approfittiamone Allora, dobbiamo soltanto marciare? Siamo super persi, man! Insomma, andiamo a casa! Davvero volete abbandonare questo film? Che razza di gente, però Che razza di gente a chi? Che razza di gente a chi? A chi? Oh, Gesù Anna Speedman Qualcuno ha riscritto la scena? Siamo attori professionisti Sì! Facciamo squadra Potremmo non fare ritorno a scena In che senso? Cioè, non sullo stesso aereo? Ben Stiller Jack Black Robert Downey Jr. So benissimo, chi sono? Sono uno che interpreta un altro Che recita di essere un altro Basta andare con te! Tropic Thunder